Un ritorno al cielo durismo, fuoco di copertura per Calderoli, battaglia contro gli immigrati clandestini e lo ius soli, attacco al governo sullo scandalo cazzaco. Se Letta sperava che Maroni mettesse una pezza agli insulti razzisti di Calderoli e lo costringesse alle dimissioni, aveva sbagliato la sua scommessa. Il massimo che il governatore Lombardo concede stasera sono poche righe su Facebook. Calderoli ha sbagliato e si è scusato, ma ora basta alimentare polemiche e strumentalizzazioni utili forse a coprire il rumore di altre questioni. Il riferimento è all'affaire del Kazakistan, su cui la Lega vuole andare a fondo alla ricerca delle responsabilità politiche e qui la botta è al ministro dell'interno Alfano, da sempre in buoni rapporti con Maroni. Lo Stato Maggiore della Lega oggi pomeriggio si riunisce per quattro ore in via Bellerio. L'uscita di Calderoli sulla Chianghe e gli Oranghi ha solleticato l'ombelico di un movimento in crisi di identità. Il colonnello Salvini stamattina ha attaccato persino Napolitano. Taccia, ha scritto su Facebook, mentre un assessore regionale del Veneto ha postato scimmie e frasi in cui si legge che l'Orango, che dovrebbe sentirsi offeso per il paragone con un ministro congolese. Nel clima di odio ci sono pure dei cappi appesi dai neofascisti di Forza Nuova ai pali della luce di Pescara, dove è andata la Chianghe stamattina per un convegno. La Lega con questo non c'entra, ma su Calderoli il carroccio non vuole fare nessun passo indietro. Alla fine della riunione di via Bellerio esce un comunicato di una pagina e mezza. Ci ha scritto che Calderoli ha rilanciato la battaglia politica della Lega Nord contro l'immigrazione clandestina. Il partito farà una manifestazione a Torino a settembre. L'unico che parla è l'europarlamentare Speroni, uno dei fondatori della Lega, non esattamente un maroniano. Sua figlia ha sposato Reguzzoni, ex cerchio magico, nemico giurato del governatore. Quando qualcuno ha paragonato un politico a un animale, Berlusconi e Caimano, Napolitano è stato zitto. Con Ghinge e Orango invece è intervenuto. Ma era di Goro? È razzismo. La tigre di Cremona è razzismo? Ha un suono un po' più razzista associato all'Africa? No, perché l'Orango non è un animale africano. E questo Calderoli lo sapeva? Questo bisogna chiedere a Calderoli. Calderoli si dimette oggi? Penso proprio di no.